Ciao a tutte, oggi facciamo un ordine di Shane, vi faccio vedere quello che mi è arrivato alcune cosine non le ho perché ho fatto le ordine insieme a mia sorella quindi le ho già portate, però ho fatto le foto quindi per quello che non ho fisicamente vi farò vedere le foto alla fine in quest'ordine sono riuscita ad utilizzare uno sconto del 15% e avevo dei punti circa 500 quindi ho tolto altri 5 euro cominciamo perché abbiamo parecchie cose cominciamo con questa borsa, una Islet Detail Square Bag questa costava 5,25, scontata l'ho pagata 4,34 è questa borsa a mano, super carina, ha questo dettaglio qui sulla cenerina ha questo di color petrolio, c'era anche nera però mi piaceva di più questo marrone e niente si mette qui, bellissima ed è anche bella grande ha una bella misura, a me piace metterci un po' di cosine su queste borse molto fatta bene, è bella morbida poi ho preso questo cerchillino questo cerchillino che sono quelli un po' cicciottosi che andavano di moda forse l'anno scorso trovo un attimo il prezzo questo è un prezzo di 3,25 pagata 2,69 è molto carino, ha tutte queste pietruzze e adesso sono qui un po' in mezzo però ho anche gli occhiali comunque per darvi un'idea di come è addosso ok poi ho altre due cosine che non vi faccio vedere indossata allora questo è un paio di mutande che ho preso dalla linea normale che ho preso dalla linea normale allora siccome non mi stanno i link a tutte queste cose sul box informazioni se c'è qualcosa che vi interessa vi fate sapere e io vi metto il codice del prodotto perché altrimenti è una roba impossibile da fare allora queste avevano un costo di 5 euro le ho pagate 4,13 la taglia è una L perché è una taglia normale non sono curvi le ho provate una volta solo così in velocità quindi devo ancora testarle per bene un pelucco sono fatte così sono fatte così hanno il sotto liscio e poi il sopra è fatto così allora le ho provate proprio in super velocità quindi non so dire esattamente a vederle così pensavo che non avessero abbastanza stoffa nel derriere perché a me piacciono super coprenti dietro però mi sembrava che invece andassero bene e il mio dubbio è su questo perché non ha alcun tipo di silicone qua e quindi l'unica volta che l'ho provato tendeva a girarsi in giù quindi può essere anche perché siano piccole devo testarlo un attivino a capire poi ho preso anche un body che è super carino questo costava 11 euro l'ho pagato 9,08 la taglia è una 2X è una 2X adesso vediamo come ve lo faccio vedere allora dietro è tutto incrociato un po' complicato allora questo è il davanti sembra un po' tipo un baby doll ha queste cosine così che si intrecciano poi dietro la schiena è aperta queste si intrecciano dietro e poi sotto è fatto tutto sempre così cappettato questo è scallop e anche questo l'ho provato in velocità è super sgambato super super scambato ok allora adesso invece ci proviamo un pochettino di cose e vi faccio vedere come mi stanno allora cominciamo con questo top questo top in realtà l'avevo preso mia sorella per lei e non le piaceva come vestiva è molto carino questa è una 2X ha l'elastichino qui non so perché fanno le maniche che non arrivano mai alla fine è questo color navy con questi firillini e qui ha anche una cucitura è fatto un po' sfiancattino lunghetto e ha anche questa spallina spallina è un po' a sbuffo diciamo quindi è così devo dire che non è male perché di solito questi qua tendono a fare un po' effetto prima man però non è male devo controllarmi qua scusate il prezzo e tutto quanto allora questa è una 2X inizialmente costava 11 euro era scontata ad 8 euro con lo sconto ulteriore l'ho pagata 6 e 60 poi passiamo a qualcosa ecco poi ho questo voglioncino che ho preso in una 2XL potevo prenderlo anche più piccolo perché è molto oversize questo costava 12 e l'ho pagato 9,90 l'ho preso principalmente non tanto prendo solo così perché resta un po' boxy forse più per metterlo così con la spalla giù e quindi lo sapevo se prendo una taglia più piccola e poi sarebbe venuto peggio però è molto carino anche il colore è un dusty blue anche le maniche sono carine però sì forse è un po' grande poi ho preso questa camicetta che è un verde più brillante credo rispetto a quello che vedete voi questa camicetta l'ho presa in una 2X costava 15 l'ho pagata 12,37 veste diciamo giusta adesso io l'ho messa dentro qua però veste giusta rispetto ad altre cose ha una vestibilità più piccola se vedete il maglione quello blu e l'altra vita di prima hanno sempre delle 2X e poi ho preso anche questi pantaloni del quale non sono per niente convinta li ho presi in una 3X perché leggendo le recensioni sembravano fossero più piccoli anche se io le altre volte quello il pantalone forse che mi sono trovata meglio era una 1X di Shane 1X o 1XL? per 1X alcuni erano grandi comunque questo ha un costo di 14 euro l'ho pagato 11,55 euro ed è questo pantalone un po' allegantino con la gamba dritta e a palloncino a parte che è grande è grande però non mi convince ho pensato di metterci di prenderlo da mettere con qualcosa dentro però a parte che non è anche i passanti per metterci una cintura non lo so non mi sembra volevo provare questo tipo di outfit ma forse non è il mio genere mi ricorda un po' sapete quei i clown del circo che hanno quelle bragonze poi con come si chiamano? con le gratelli ecco mi ricorda questo poi abbiamo un pigiamino questo è una taglia 3XL perché le recensioni dicevano che i pantaloni erano piccoli le recensioni erano false questo costa 16 euro e l'ho pagato 13,19 euro allora è molto molto carino è nero sembra un po' marrone lì però è nero la mamma l'ha vista gli è piaciuto un sacco e mi ha chiesto se ne prendo uno identico quindi forse magari do questo a lei e io mi prendo una taglia in meno e vediamo come va sperando di trovarlo ancora e e niente è molto carino molto carino è anche bel fatto ha questi bordini bianchi e comunque i pantaloni non sono piccoli ve lo dico io che i pantaloni non sono piccoli i pantaloni non sono piccoli ecco quindi adesso vanno c'è chi li mette anche così i pigemini o le camicie come ne ho visto così vabbè e vabbè un pigiama comodo largo male non fa anche li svolgono sotto guardate mi ci mette peluciose però sì potevo prenderlo anche più piccolino allora qui mi sono fatta un piccolo completino per la palestra questo non era abbinato l'ho scelto io c'è questa magliettina che è parecchio lunga dietro la sussima vediamo qui c'è tipo una scritta che dice love e ha una bella lunghezza di manica ha questa righetta verde che riprende i pantaloni che sono a tre quarti sempre un verde abbastanza simile diciamo l'unica cosa dei pantaloni è che sì sono diciamo attillati il giusto però fanno questa cosa qui vedete questa righi qua e fanno la stessa cosa dietro il ginocchio non so perché c'è troppo a stoffa lì e in più ho fatto un completo a tre pezzi con questo con questo top sportivo molto carino anche questo ha riprende più o meno gli stessi colori e il dietro è fatto così l'ho provato molto molto comodo mi piace sostiene anche abbastanza e ha le solite coppe preformate all'interno allora adesso vi dico il reggiseno è una 2XL i pantaloni sono una 1X la maglietta è una 2XL i pantaloni costavano 13 li ho pagati 10,72 il reggiseno costava 11 li ho pagati 9,08 la maglietta costava 11 li ho pagati 9,08 bene adesso passiamo ai vestiti eccoci qua con il primo vestito è lungo dovrei farlo accorciare ed è in velluto come vedete qua si vede la spina di mergiseno ha una spalla molto larga ha per qualche motivo le coppe dentro però qua sopra per me sarebbe un po' larghino questo l'ho preso in una 3X sto cercando un vestito da mettermi per il mio compleanno quindi è carino questo qua io lo metterei ovviamente dipende da cosa ci metti sotto qua ci va un qualcosa che faccia scivolare bene l'abito però anche così tutto sommato non è male quindi ci metterei qualcosa sotto è carino è carino peccato qui che sia un po' larghino però ho pensato magari vi faccio mettere due bottoncini qua che si aggancino così non scappa potrebbe essere un'idea questo l'ho preso in una 3X l'ho preso appositamente in una 3X perché non mi tirasse sulle mancia mi sono anche dimenticata di dirvi che dallo scorso video le mie misure sono cambiate le mie misure sono cambiate di abbastanza però stavolta alla fine ho preso cose di tagli più grandi delle altre volte quindi non vuol dire niente allora questo vestito costava 40 euro costava 40 euro alla fine l'ho pagato 32 e 62 ed è una 3XL poi passiamo a l'altra scelta che ho per il vestito allora adesso vi faccio vedere il secondo vestito e ditemi tra i due quali preferite allora questo è sempre in una 3XL costava 16 e l'ho pagato 13,19 eccolo qua anche questo l'ho preso in una 3XL perché non volevo fosse troppo attillato sulle pancia ovviamente come vi ho detto sotto ci metterei un qualcosa di più adeguato però devo dire che segna anche meno rispetto all'altro segna anche meno ha queste mettermi giù così ha queste spalle fatte così molto carine e a me piace un sacco e qua come vedete ho sempre lo stesso legiseno però questo sta più su di spalla quindi è meno probabile che si veda tra i due io quasi quasi preferirei questo anche questo ha tutte le rouge tutte le arricciature però quasi quasi tra i due preferirei questo cosa ne dite? questo ovviamente è corto dobbiamo anche pensare che scarpetta metterci insieme allora il vestito mi serve per festeggiare il mio compleanno in Texas sarà più caldo che qui sarà a fine novembre quindi una cosa così potrebbe anche andare non so se mettere le calze oppure no adesso ci pensiamo bello comunque questo mi piace veramente tanto mi piace veramente tanto perché mi piaceva l'idea di un vestito di questo genere perché ne avevo visti però anche volando le foto delle recensioni cioè i vestiti di questo genere stanno bene quando sono abbastanza attillati vedermi come un insaccato no io non sopporto avere magliette attilate lavette attilate generalmente non lo sopporto deve proprio scivolare bene e questo scivola bene fa anche una bella silhouette bene poi vi devo parlare delle altre cosine piccoline allora parliamo delle altre cosine piccoline che non ho qui da mostrarvi quindi vi metterò una foto qui a fianco c'è anche una maglietta non solo cosine piccoline allora abbiamo questo orsacchiottino che ho in giocattolo per cani costava 1,25 pagato 1,04 questo set di 4 orecchini dei quali due sono delle renne costava 1 euro pagato 84 centesimi questi altri due orecchini con babbo natale costavano 75 centesimi pagati 63 questa mucchetta che è sempre un un giocattolino per cani costava 2 euro e pagata 1,66 questa porta chiavi con le tre zampine costava 1 euro pagato 84 centesimi poi ho questa maglietta che l'ho presa per mia mamma è molto molto carina è molto classica però è molto bella questa costava 8 euro perché forse era già scontata e alla fine l'ho pagata 6,60 poi questo set di braccialettini di finta pelle per uomo costava 2,25 pagato 1,87 questo cappellino nero semplice costava 2,50 pagato 2,07 questi due orecchini con le zampine costavano 0,75 pagati 63 centesimi questo porta chiavi con il boccale di birra costava 75 pagato 63 poi abbiamo un braccialettino con il babbo natale le campanelline e un fiocchettino di neve costava 1,75 pagato 1,45 e poi queste bacchettina per far giocare i mici costava 1,25 pagata 1,04 ecco qua mi pare di avervi detto tutto era un po' che non facevamo un video di Shane quindi spero vi sia piaciuto io provo a prendere quel cosina che so che mi metto e quel cosina che so che è un po' al di fuori di quelle che sono abituata a mettermi questa volta ho provato il pantalone a palloncino con la camicetta di setta e anche questi vestiti erano un po' fuori da quello che normalmente mi metterei per provare un po' così mi piace Shane perché appunto senza avere dei prezzi esorbitanti ha delle cose un po' carine che ti ti invitano a provare qualcosa di nuovo che magari altrimenti non non ci provereste neanche e niente spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere quale dei due vestiti vi piace di più e se volete sapere di un prodotto in particolare chiedetemi pure il codice e io ve lo scrivo qui sotto ciao ciao ciao